Bene, Massimo Carboniero, titolare di Omera, produttrice di presse, rifilatrice, linee automatiche, settore deformazione della lamiera. Intanto sono molto contento oggi di vedere più di 300 colleghi presenti alla Sise, vuol dire che è sentito da parte del settore della macchina di utenere italiana questo importante avvenimento, perché tutti vogliamo confrontarci anche per ritornare a casa contenti del fatto che pare che qualcosa stia cambiando, l'economia anche europea stia riprendendo e quindi confrontarci su come organizzare al meglio le nostre aziende per riprendere questa ripresa che pare che sia in atto è sicuramente un momento altamente interessante. Personalmente ritengo che oggi bisogna sottolineare l'importanza del settore della macchina utensile per l'economia italiana. Sicuramente l'Italia è fortissima in molti settori, in molti campi, però in pochi settori è questa posizione di leadership come ha la macchina utensile. Siamo al quinto posto come livelli di produzione mondiali, siamo al terzo posto come livello di export, siamo anche fattori di ottime macchinari con grande tecnologia, grande versatilità e grande personalizzazione in base all'esigenza del cliente. Questi qua sono i punti che dobbiamo sottolineare anche durante l'incontro di oggi e che siano punti anche di stimolo per chi ci governa, per le autorità non solo politiche ma economiche, perché supportino nella crescita del nostro settore che dovrà sempre di più sviluppare i mercati esteri e l'internazionalizzazione.